Buonasera, Wankdorf, Ostad de Suisse, che dirsi voglia, Berna, ore 14, domenica 15 maggio, sono coordinate che ben conoscete e che di sicuro conosce molto bene il nostro ospite. Fra una settimana va in scena l'atto finale della Coppa Svizzera ed è davvero un piacere poter ospitare in quest'angolo di quiete, prima della tempesta, diciamo così, l'allenatore del Football Club Lugano, Mattia Crocitorti. Buonasera, ciao Mattia. Buonasera e grazie a voi per l'invito. Benvenuto, ti abbiamo strappato un attimo in questo, possiamo dire così, si percepisce un po' la quiete prima di questa grande battaglia, come si sta ad un passo dalla gloria? Ma sicuramente questi giorni sono giorni di grande attesa, si percepisce che comunque da parte di tanti c'è tensione, però c'è grande voglia di andare a vedere questa finale e da parte nostra c'è veramente questa enorme energia che c'è proprio dentro, da quando abbiamo battuto lo Young Boys ai sedicisimi finali, di giocarcela alla grande domenica prossima. Perché poi ho letto un'intervista, mi aveva fatto specie, tu hai risposto dicendo il mio sogno se dovessi diventare allenatore è vincere la Coppa Svizzera e non il campionato. Non che vincere il campionato faccia schifo, ovviamente, però perché ti dà quel fascino particolare la Coppa Svizzera? Ma sicuramente deriva dall'infanzia. Io mi ricordo il giorno di Pentecoste, quando eravamo bambini, comunque con mio papà si stava sul divano e si guardava la finale della Coppa Svizzera. Per noi comunque è un po' come in Inghilterra, la Coppa d'Inghilterra, la Coppa Svizzera rimane una competizione affascinante, è una competizione che comunque comprende tutte le categorie. È democratica, ecumenica, diciamo così, comprende tutti, infatti. E penso che il giorno della finale sia un giorno particolare, dove veramente nessuno altro gioca, dove tutti guardano quella partita, ecco, per me è sempre un ricordo indelebile di quelle finali ed esserci domenica prossima sicuramente sarà emozionante. E saremo con te, con il Cruz, ovviamente. Invece oggi Mattia Crocitorti deve scegliere, mettere in campo, lui che allenatore avrà fiuto, no? Per capire chi mettere in campo oggi, che è il gioco del mondo. Posso offrirti il matto, giocatori matti vanno anche bene ogni tanto, magari sono capaci di qualcosa di anti-accademico e risolvono le partite, altrimenti posso offrirti la fortuna, la morte, che è un nuovo inizio e non è una fine, l'eremita, persona saggia che ama stare ritirato ogni tanto, l'imperatore, autorità, autorevolezza, oppure l'amore. Il matto. Il matto. Sai, è scelta molto dagli artisti. Tu hai un po' un coté artistico, un po' così, un po' folle, simpaticamente inteso. Diciamo che tante volte sono ispirato da idee folli, ma questo non solo nel calcio, ma anche nella mia vita privata. A volte cerco di avere un equilibrio, mi ricordo, Vasco Rossi diceva che è tutto un equilibrio sopra la follia. È bellissimo il pezzo. Però le vedo quando arrivano, le sento, questi attimi di ispirazione, perché più che idee sono ispirazioni da dove c'è dentro tanta follia. Dunque scegliere gli altri oggi non sarebbe stato essere Mattia Crocitorti. Esatto, ma il matto ha la maglia numero 10 sulle spalle. Cioè quei giocatori un po' anti-accademici che a volte non sono amati dagli allenatori. Magari dai compagni di calcio, di squadra, poi quando si dite allenatori, quella follia, quella pazzia. Perché un allenatore è un pianificatore anche. Cerca di mettere le cose prevedendo, giusto? Quello che succederà. Il matto è quello che crea lo scarto, che ti fa vincere. Per me il 10 è quello che ha più estro, più che quello più matto. Il più matto per me è quello che nella squadra cerca di creare sempre un ottimo ambiente, cerca sempre, tante volte, di guardare più agli altri che a se stesso. Ed è quello che ho cercato di fare nella mia carriera, tra virgolette, calcistica. È sempre stato comunque guardare più al gruppo che a me stesso. E tante volte mi ritrovo in questa nuova veste. C'era anche un altro bel pezzo, una vita da mediano, no? Anche quello è un pezzo. Ti piace la musica, mi sembra di capire. Mi piace la musica e mi piacciono i testi. Mi ricordo che comunque nell'adolescenza, in quegli attimi dove uno sta solo, dove uno ha bisogno di qualcosa in cui aggrapparsi. Ci sono stati dei testi o delle frasi, qualcosa che poi ti aiutano, ti danno forza. E i cantautori italiani in casa cosa ascoltavate? Se posso chiedere, quando eri un bambino, un ragazzino... Ma guarda, io ormai arrivo comunque dalle generazioni del compact disc. Io arrivo a quelle dei CD. Dunque i primi CD che avevo preso forse erano quelli dei Guns'Ross, mi ricordo. Mi ricordo che andavamo a vedere queste partite e mettevamo sempre il CD o in Italia quello degli articolo 31. Gli articolo 31, sì. J-Ax, bellissime cose. Allora, dai, il matto è lì che scalpita e vediamo con il dado, non è come un pallone, non rotola il dado, ma un po' sì, vediamo dove ci porta. Mattia Crocitorti, uno, due, tre. Ecco, il matto che va a scuola. Cos'è? Sembrerebbe il titolo della tua biografia. Non so tu che relazioni avevi con la disciplina, per esempio. Non un'ottima relazione. Non un'ottima relazione fino ai 14 anni. Poi ho capito che le cose non andavano bene e ho cercato di cambiare e migliorare. Mi ricordo che nei 13-14 anni sicuramente non ero molto disciplinato, non ero molto attento. I miei livelli di attenzione erano molto, molto bassi ed è per questo che non andavo bene a scuola in quegli anni. Dopodiché ho svoltato, ho svoltato e da lì è iniziato anche quasi a piacermi la scuola e i tempi delle commerciali sono stati dei begli anni. Ma è stato il calcio ad aprirti gli occhi sulla disciplina? Le cattive note sicuramente. I miei genitori sono sempre stati genitori che non hanno mai dato la colpa al maestro, la colpa a qualcos'altro. Mi hanno sempre responsabilizzato molto. Mi hanno sempre detto guarda che se non stai andando bene è per colpa tua. Non attaccarti a scuse e quant'altro. però avevo tanti pensieri. Sicuramente il calcio, sicuramente altre cose mi avevano un attimino distratto e poi ho capito che c'era da lavorare. A volte, ecco, forse l'insegnamento più grande che mi hanno sempre dato i miei genitori è rimboccarsi le maniche. Ecco. E dunque, la scuola è stata bellissima forse anche dopo. Ecco, nelle commerciali era un altro Mattia Crocitorti, era uno che se le gustava di più le lezioni. Poi a un certo punto comunque bisogna fare una scelta perché erano comunque, tu sei giovane, hai compiuto 40 anni, non da tanto, ma non c'erano le strutture, le possibilità che ci sono adesso magari di portare avanti il più possibile i libri, la scuola e lo sport ed elite. A un certo punto comunque hai dovuto fare una scelta e sul calcio non hai avuto dubbi. Come ci sei finito in fondo nel mondo del calcio che hai vissuto da professionista comunque? Ma io sono convinto che comunque le opportunità arrivano sempre. Io casualmente finendo le commerciali mi era arrivata una proposta per andare a Zurigo a Grassoper e ci ero andato più che volentieri perché ho un'altra esperienza di vita. Mi mancava ancora un piccolo percorso a scuola, alla maturità commerciale che sapevo che potevo fare poi posteriormente se le cose non fossero andate bene col calcio e allora ho preso la valigia e sono partito verso Zurigo. Sportivamente sono stati anni difficili perché la prima partita ho rotto il ginocchio e non sono neanche mai più stato quello che ero prima a livello atletico però sicuramente ho avuto una grande esperienza di vita ho imparato un'altra lingua ho conosciuto altra gente e se penso a quello che ho fatto dopo lavorativamente parlando o anche adesso che faccio l'allenatore aver imparato così bene un'altra lingua è stato fondamentale. Quindi tedesco, francese ci sono tutte queste lingue per forza un po' fuori dalla dimensione chiasso-aerolo che tu hai vissuto portando i colori di squadra dal Morbio, Balerna Mendrisio il chiasso il lugano ovviamente insomma un po' come calciatore un po' come allenatore però appunto c'è stato il Villa anche se non sbaglio poi il Grassopers però sei uscito da quella dimensione territoriale che ti appartiene adesso per esempio tu sono in molti a dire che il Cruz è un po' il rappresentante di una comunità ticinese un po' che sogna e spera qualcosa di nuovo sei portatore di un'umanità anche contagiosa una sorta di capopopolo in questo momento è un po' il passo dalla gloria un po' questa cosa ma va detto insomma ci sono tante speranze nel tuo lavoro in quello che fai in quella partita che verrà come vivi questo senso un po' di responsabilità che penso che comunque avverti che c'è questa passione che come hai detto prima che è partita ma sicuramente io sono uno molto legato al territorio evidentemente mi sono sempre sentito un ticinese d'ok io ho sempre cercato di portare questi valori anche dall'altra parte della Svizzera e comunque anche quando vado via ogni volta che faccio il tunnel del Gottardo ci faccio caso sono arrivati ad Airolo quando prendevo il treno finito il tunnel siamo arrivati rivedo Melide mi sento a casa sono legato e questa cosa comunque fa sì che tante dinamiche le vivo in maniera diversa io so quanto la gente ci tiene anche alle nostre squadre a chi tiene Lugano Calcio Lugano O che è l'Ambripiotto io mi ricordo che bei tempi erano quelli del basket del vacallo così quando vai in giro e porti questi colori anche fuori dalla Svizzera è sempre bello portarli con orgoglio ed è quello che quello che ho sempre cercato di fare ed è quello che ho cercato di trasmettere quest'anno alla mia squadra ossia uscire dal Ticino e giocarsela sempre a testa alta ed è quello che abbiamo fatto ed avere la possibilità domenica prossima di veramente di giocarcela a testa alta guardando gli avversari proprio negli occhi è una cosa che mi veramente mi orgoglisce ma mi rende più felice sono proprio contento benissimo dai con gioia che andiamo anche oltre dopo la scuola facciamo un 5 1 2 3 4 5 ed ecco la piccola città che è un argomento che un po' abbiamo già trattato sì tu sei hai detto Melide mi sento un po' a casa perché un po' lì geograficamente comincia il Mendrisiotto sei un momò caratterialmente è ormai una cosa comprovata però da momò sei anche vicino alla frontiera comunque c'è Chiasso ci sono i treni c'è la stazione quindi quella piccola città abbiamo parlato del nord andare a nord di San Gottardo però ti lancia anche verso un'altra dimensione internazionale si cambia stato cosa è così tu hai anche quella quell'aspirazione di guardare fuori quell'interesse e la curiosità di guardare cosa c'è oltre alla Svizzera io sono di Vacallo dove abitiamo noi dalla camera di mia sorella comunque si guardava l'Italia e dunque mi sono sempre sentito vicino anche all'Italia perché è normale noi gente di frontiera già dalla storia è una situazione diversa da quella che vivono gli altri io dico sempre che fa ridere che conosco tutti nel Mendrisiotto e non conosco nessuna persona che abita 300 metri dall'altra parte della dogana e questa cosa è veramente fa pensare tantissimo però ecco quando penso all'Italia o agli altri paesi penso più a quella voglia di viaggiare che ho sempre avuto ma non ho mai fatto ogni tanto comunque il calcio ti dà tanto lo sport ti dà tante emozioni mi ha dato tanta gioia però sicuramente una delle cose che sono sicuro che mi ha tolto è il viaggiare che è una cosa che non è la cosa di andare in trasferta e tornare cioè non è muoversi in quella costellazione conosciuta degli stadi dei percorsi dei piazzali insomma è un'altra cosa però adesso per esempio anche nel Mendrisiotto per esempio ci sono famiglie di Ucraina che sono stati accolte ecco anche questa è una dimensione che ti interpella sì soprattutto nel mio paese adesso a Balerna ma anche dove abitavo io a Vacallo hanno fatto tanto per queste famiglie tutti si sono adoperati ognuno a modo suo e ho visto tanta bontà in questi mesi ho visto tanta bontà tanta gentilezza e tanta gente che si è data veramente da fare e a volte noi ci stacchiamo un po' dalla realtà ma c'è una grande umanità comunque e ci sono tante persone che si occupano dell'altro e a volte anche personalmente ci sono dei momenti che che vorrei fare di più vorrei vorrei donare vorrei anche donare donare più tempo però capisco capisco che non sarei in grado adesso di gestirlo con le tante cose che abbiamo da fare dunque a modo mio ho cercato di dare una mano in maniera differente poi come padre comunque impegnatissimo perché è una cosa è gestire magari 25 ragazzi nello spogliatoio è una cosa avere tre bambine ragazze a casa Dorotea come si chiamano Esmeralda Esmeralda Dorotea e Cassandra nomi bellissimi li hai scelti tu? li abbiamo scelti insieme diciamo che per caso o non per caso Dorotea è un po' il mago di Oz Smeralda la città di Smeraldo mentre Cassandra era un nome che ci piaceva e sono nomi bellissimi a te quando vai nell'arena quando scendi in campo la presenza dei familiari come ti pone emotivamente? penso magari ai tuoi genitori ma penso magari anche alle tue figlie e alla tua famiglia cioè a te piace avere questo supporto emotivo in tribuna lo senti o no? no lo sento lo sento ma io con lo sguardo li cerco sempre mia mamma e mio papà prima di ogni partita so che ogni tanto vengono anche in trasferta sono sempre venuti però sono persone che sanno stare al loro posto sono persone che non vogliono assolutamente entrare in dinamiche che non sono le loro però il fatto che ci siano mi dà sempre tanta forza quello sicuramente perché mi sembra sempre che comunque siano lì con me che comunque provano le stesse emozioni che provo io Mattia quando se qui fossimo a Cornaredo loro dove si mettono di solito? loro si mettono dietro a sinistra terza ultima fila solitamente quindi non gridano mai cambia quello fai questo non si permettono o no? secondo me mio papà l'ultima volta ha gridato uno sveglia perché la voce era la sua e l'hai riconosciuto dai lasciamo la piccola città un 6 questa volta hai la mano calda ci arrivi 2, 3, 4, 5, 6 beh siamo sui sacrifici è una parola tosta ovviamente quella dei sacrifici è una parola difficile a te cosa viene in mente sulla parola sacrificio tu hai già fatto un elogio del sacrificio a livello professionale per esempio no? hai detto che bisogna comunque sacrificarsi però questa carriera di calciatore quali di calciatore e di allenatore cioè vivere nel mondo dello sport sembrerebbe sono rose e fiori è così? guarda quando parliamo di sacrificio a me viene veramente un po' difficile parlare di sport io la verità è che ho fatto tanti altri lavori ho fatto rappresentante tanti anni ho lavorato come magaziniero ho lavorato in posto ho fatto tanti altri lavori e penso che i sacrifici onestamente facciano più parte di altri settori di altri settori i sacrifici che facciamo noi sono quelli che se vogliamo arrivare se vogliamo competere a un livello alto bisogna comunque entrare nei dettagli e per entrare nei dettagli ci vuole tempo ci vuole pazienza e tante volte quel tempo che prendi per migliorare lo porti via da qualche parte evidentemente io so che porto via del tempo alla mia famiglia porto via porto via del tempo non ci sono mai weekend ma anche a volte anche durante il giorno sono assente perché i miei miseri sono dall'altra parte ecco Mattia è vero sei stato molto sincero nel dire che è difficile concepire sacrifici nel calcio però in libreria io ho visto un libro intitolato Piacere di Averti Conosciuto un libro scritto da una bandiera del Lugano da Fulvio Sulmoni scritto in un momento difficile della sua vita dove ha raccontato il lato oscuro del professionismo e dove ha detto insomma alla fine le persone forti sono quelle che hanno il coraggio di mostrare anche la loro fragilità poi sui social girava un'intervista di Marco Tadde che ha fatto un freestyler sciatore che portava i colori rossocrociati ha fatto le gobbe a Pechino non è arrivato sul podio insomma e non è andata bene lui ha detto ecco insomma alla fine la mia carriera è una carriera fatta di delusioni è diventata virale è stato invitato anche hanno toccato comunque questi due sportivi d'élite un concetto cioè per quello che vince ce ne sono 99 che perdono e quindi quel tipo di sofferenza la sconfitta l'infortunio l'offesa morale la critica negativa fa parte di questo mondo e davvero riesce a essere impermeabile oppure comunque tocca nel profondo quella pagina il lato oscuro dello sport guarda io non dimentico mai che il calcio è un gioco io non lo dimentico mai e come ti ho detto prima io ho avuto la fortuna di fare altre esperienze e quando fai altre esperienze sai che è difficile dappertutto è difficile quando da rappresentante devi portare i conti a fine mese al tuo capo è difficile quando veramente in tutti i lavori c'è una parte brutta una parte oscura e sono cose che fanno parte sia del lavoro che come nel calcio fanno parte del gioco evidentemente non è facile sempre sguazzarci dentro evidentemente ci sono dei momenti come lo è stato per Fulvio che tra l'altro è un grosso amico dove vedi le cose nella maniera negativa perché in quel momento le vedi in quella maniera però io per esempio ricordo Fulvio con me tante volte sorridente tante volte pieno di gioia poi c'è quella parte che poi ci sono dei momenti che non la si riesce a vivere bene e dei momenti dove la si vive meglio evidentemente anch'io adesso che sono sotto i riflettori non è facile ogni tanto aprire la pressione quando perdo i social non parlano bene anzi uno se legge quelle cose gli passa la voglia di fare quello che faccio io però bisogna trovare un equilibrio e l'equilibrio è essenziale però come ti dicevo io sono convinto che gli equilibri bisogna trovarli dappertutto ed è veramente non era facile farlo in altre attività non è facile farlo adesso dove i riflettori non sono solo qua certo ma li vivo dalle otto di mattina alla sera però è la parola fondamentale che poi ci ritorniamo all'equilibrio che ne avevamo già parlato prima dell'equilibrio sopra la follia dunque ecco sicuramente è una parola chiave è una parola che comunque è costante nei miei pensieri allora c'è chi cantava l'equilibrio sopra la follia c'è invece chi recitava Carpe Diem Carpe Diem sentiamo perché sono salito quassù chi indovina per sentirsi alto no grazie per aver partecipato sono salito sulla cattedra per ricordare a me stesso che dobbiamo sempre guardare le cose da angolazioni diverse e il mondo appare diverso da quassù non vi ho convinti? venite a vedere voi stessi coraggio è proprio quando credete di sapere qualcosa che dovete guardarla da un'altra prospettiva anche se può sembrarvi sciocco o assurdo ci dovete provare figlioli dovete combattere per trovare la vostra voce più tardi cominciate a farlo più grosso è il rischio di non trovarla affatto Trudice molti uomini hanno vita di quieta disperazione non vi rassegnate a questo ribellatevi non affogatevi nella pigrizia mentale guardatevi intorno ecco così bravo Frischi grazie sì osate cambiare cercate nuove strade insomma allora Robin Williams è un film capolavoro questo sembra un discorso motivazionale perfetto per uno spogliatoio a te perché questo film ti ha colpito ti ha toccato? io l'ho visto quando avevo 14 anni la prima volta ed è un film che mi ha dato tanto coraggio tanto coraggio evidentemente la figura di Robin Williams questa leadership che lui è riuscito ad avere con i suoi alunni è qualcosa di impareggiabile a volte ecco è stato un esempio quando uno vuole fare l'allenatore la verità che vuole che la sua squadra gioca come lui che ha la sua stessa faccia che lo ascolti e non è facile e forse è la chiave quella dell'avere successo quando tu riesci veramente a non convincere perché non è la parola esatta ma a trasmettere le proprie idee i propri valori ecco allora lì hai raggiunto un grado di leadership come quella che è riuscito ad avere Robin Williams nel film e mi ricordo che quando tutti gli alunni salgono sul tavolo i brividi i brividi ce ne erano stati o capitano o mio capitano è stato un film impareggiabile veramente meraviglioso andiamo oltre dopo un 6 dopo i sacrifici questa volta un 3 ci vado io 1, 2, 3 e siamo sulla stazione ferroviaria beh l'abbiamo già vista ne abbiamo già parlato ma hai parlato anche di viaggi la voglia di fare i viaggi ma c'è una meta davvero che quando sarai più libero o avrai possibilità di tempo vorrai raggiungere ma l'unico viaggio che ho fatto veramente della mia vita sono state due settimane e mezzo in Argentina Uruguay un po' di Brasile un po' di Patagonia ma veramente poco poco hai parlato di Argentina poco era argentino Osvaldo Soriano mi viene in mente l'autore Fudge Ball un libro mitico perché abbiamo parlato del libro di Sulmoni però c'è anche il coté più diciamo divertito e divertente quasi epico da narrazione epica del calcio dei vari personaggi poi mi viene in mente un altro libro La solitudine dell'ala destra di Fernando Acitelli parlava di Gigi Meroni sì insomma esattamente ecco è un mondo comunque del calcio pieno anche di personaggi di personalità tu come intercetti le persone a livello empatico oppure a livello così con gli esempi o a livello più teorico come agganci le tue persone i tuoi i tuoi calciatori ma io sono convinto che gli aspetti relazionali sono una cosa fondamentale per poter gestire per poter gestire un gruppo ed è lì che metto tante volte l'attenzione più che su altri aspetti poi prima abbiamo parlato di dettagli che sono i dettagli tatici tecnici di condizione però gli aspetti relazionali sono fondamentali perché una persona ti dà tanto se vede che comunque da parte tua c'è un determinato tipo di fiducia c'è un determinato tipo di empatia come hai detto bene te io penso di essere una persona empatica faccio faccio veramente anzi non faccio fatica a cercare di andare d'accordo con qualcuno poi dopo anch'io sono uno che quando le cose poi non vanno così bene come le voglio io poi inizio ad essere un po' diffidente dunque sono empatico tanto cerco veramente la miglior relazione possibile però quando capisco che ci sono veramente troppi ostacoli a volte faccio un passo indietro noi abbiamo anche una casella degli ostacoli penso che abbiamo tempo ancora magari per il lancio facciamo un tre no non ci finiamo sugli ostacoli uno due tre ma finiamo proprio sui giochi vedi siamo il gioco del mondo tu sei stato un giocatore quindi il gioco il gioco calcio come dicono in certi studi televisivi sui giochi tu sei un papà che gioca con le sue figlie vorrei giocare di più però sono un papà che gioca gioca perdo spesso ma non perché lo faccio a posto ma perché per esempio al memory ultimamente non ne vinco mezza mia figlia adesso sta iniziando a giocare a scacchi l'altra comunque fa diversi sport dunque cerchiamo di fare qualcosa insieme però penso che sia nella loro infanzia sia sia bello poter avere un papà che gioca con loro però bisogna cercare di farle giocare di più perché è un mondo dove stiamo veramente andando troppo e quando invece stacchi proprio dal gioco calcio ci sono dei momenti in cui davvero tu hai bisogno di stare un po' da solo perché sei sotto i riflettori ci sono le pressioni ci sono le interviste c'è il gioco del mondo e a un certo punto un uomo ha bisogno anche di ritagliarsi in un suo spazio privato cosa fai? ma io sto da solo cammino spesso da solo vado in bici da solo nuoto da solo sono dei momenti dove a volte so che non c'è neanche il telefonino dunque lasci il telefonino in un angolo e via ma è quando nuoti no certo magari c'è chi lo lascia nella borsa di fuori se squilla poi esce o in bicicletta vedi quelli che corrono col cellulare ci sono bisogno però la cosa che so è che quando sono in movimento i miei pensieri vanno più veloci trovo soluzioni più in fretta se sto fermo i pensieri rimbombano dunque ne ho bisogno e ci sono dei giochi politici ai quali tu ti interessi i giochi politici la politica è una parte io seguo 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 guardo voti voto 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 più le persone voto più le persone però ecco non sono non sono un esagitato però mi piace ascoltare le persone più che altro mi piace ascoltare i discorsi ne prendo insegnamento ci sono anche dei leader politici che comunque lasciano sempre dei segni anche nel nostro piccolo penso che ci sia delle persone anche a livello ticinese che possono dare una mano nei prossimi anni a sviluppare ancora meglio il nostro territorio poi a volte ovviamente il calcio serve al politico e la politica serve al calcio mi le mette Berlusconi insomma col Milan poi ho fatto credito anche di altri di voti politici per esempio insomma Mattia Crucitorti grazie davvero per essere stato in nostra compagnia sei stato gentilissimo a dedicarci un po' di tempo eh interiore è stato no è stata una cosa sicuramente particolare e sicuramente mi ha fatto un grosso piacere poi c'è sempre questa parte di retrospettiva che 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 durante il giorno non avviene tante volte dunque grazie a voi grazie grazie a te e ovviamente saremo con te fra una settimana al Vangdorf o Stade de Suisse che dir si voglia Vangdorf o Stade de Suisse Vangdorf Vangdorf dai al Vangdorf grazie anche a voi per essere stati in nostra compagnia ci rivediamo la settimana prossima con un altro gioco del mondo con un altro ospite con un'altra storia da raccontare buona serata grazie a tutti grazie a tutti